Un incontro del tutto particolare, quello che si è svolto ieri sera al Palamoncada di Porto Empedocle. La fortitude ha incontrato in amichevole una rappresentativa dei militari dell'Avvassenato di Sigonella. Abbiamo provato questa esperienza, i ragazzi l'hanno presa anche con un discreto entusiasmo. Il livello forse non è quello che ci aspettavamo, ma forse è quello che ci aspettavamo. Però è comunque un momento anche in cui un attimo distrarsi, fare qualcosa di diverso. Secondo me è simpatica, carina. Una partita sicuramente che ha fornito un basso contenuto tecnico per quello che riguarda il livello del nostro campionato. Era sicuramente inferiore. Noi all'ultimo momento abbiamo avuto la necessità di organizzare un amichevole per poter inserire Castelli un po' nei nostri meccanismi. Visto che domenica dovrà giocare a Reggio Calabria, i giorni non sono molti. Per cui abbiamo provato questa strada, non ci aspettavamo molto più di questo. Però ci è servita se non altro per farlo entrare un po' in sintonia, farlo entrare un po' nelle abitudini tecniche della squadra. Riccardo Castelli, classe 1988, alto due metri, originario della provincia di Cuneo. Castelli arriva a pochi giorni dall'infortunio rimediato dall'argentino Albano Chiarastella, che rimarrà fuori dal parquet per almeno altri 20 giorni. Vista l'importanza dell'inizio del campionato e il tipo di torneo che quest'anno la fortitude assonterà, il presidente Salvatore Moncada e il direttore sportivo Cristian Maier hanno così scelto di chiamare alla corte di coach Franco Gianni il giocatore 24enne. È un giocatore di eccellenti capacità, ha giocato in Lega 2, ha giocato in Adilettanti per molti anni, pur essendo un ragazzo giovane. Chiaramente oggi è in difficoltà perché nel giro di 24 ore ha dovuto assimilare schemi nuovi, regole difensive nuove, situazioni a cui non è abituato e quindi ogni tanto magari ha dei passaggi dove è meno pronto, ha meno familiarità con le cose che fa. Però sicuramente ha grande atletismo, ha pericolosità perimetrale, è un giocatore abbastanza completo. Direi che noi abbiamo tratto indicazioni positive e dovremmo aspettarlo però almeno un paio di settimane perché possa dare quello che è nelle sue corde. Un bel risultato ieri sera, quello della squadra grigiantina che ha vinto nettamente sulla squadra ospite, anche se in realtà quello che conta non è il risultato tecnico, bensì l'aver messo in luce ancora una volta i valori sani dello sport e dell'amicizia. È stata una buona partita, Grigianto in questo momento è una squadra più fisica della nostra, abbiamo fatto una buona amichevole, abbiamo imparato qualcosa giocando in una squadra di categoria superiore. Speriamo di migliorare anche se io in questa partita non ho avuto a disposizione i miei pivot e speriamo anche di fare qualche altra amichevole con Grigianto in modo da migliorare ancora di più il nostro bagaglio. Grazie. 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 Grazie.